Torna quest'anno, il 29 dicembre, dopo due anni di stop, la manifestazione di beneficenza Natale con noi. Per la ricerca, ogni anno l'abbiamo fatto da più di vent'anni e quest'anno stiamo tentando di farla, grazie agli sponsor che ci hanno permesso, la manifestazione sarà l'Apollo il 29 dicembre, mentre la rifa l'abbiamo qui, praticamente vendiamo i biglietti qui, non si pagherà l'ingresso e sarà una bellissima manifestazione tra moda, spettacolo e musica. Questa è una manifestazione, quella organizzata per l'AIRC, per la ricerca? E per l'AIRC, soprattutto per l'AIRC e poi anche in memoria del Gisodice Lucente che è stato il perno dell'AIRC e poi c'è anche Maurizio Principe che collabora chiaramente per continuare questa ricerca, essere propositive e volontari. Sempre presenti sul territorio? Abbiamo detto che per due anni non c'è stata la manifestazione e causa... Siamo presenti anche con le azalee, presenti con le arance, con lo spillino che abbiamo fatto, ci siamo presenti e per il nostro piccolo quello che possiamo fare facciamo. Una manifestazione organizzata, ricca di tanto spettacolo. Sì, sì, molto spettacolo. Non sarà lunga per non appesantire, ci sarà anche una ricercatrice ospite che sarà premiata e poi ci sarà moda, spettacolo e musica. Grazie Linda, quindi ricordiamo l'appuntamento. Il prossimo... di dicembre avremo il piacere di vedervi tutti quanti, sarà molto bello festeggiare insieme sia per la ricerca che per il Natale e tutto il resto.